Fallo innamorare con la psicologia oscura! Salutiamo la nostra ghianettina Green Apple! La nostra mela verde! La nostra mela verde! Salutiamo Rosy! Salutiamo Rosy! Allora, cerchiamo di capire un attimino qualcosa prima sulla psicologia oscura, che cos'è la psicologia oscura, come funziona la psicologia oscura e come possiamo, diciamo, utilizzare, salutiamo anche Sissi, come possiamo utilizzare la psicologia oscura per sedurre, come possiamo utilizzare la psicologia oscura per far innamorare. Ma su che canale sono? Non vedo su che... Su che canale sono? Forse l'ho fatto sul canale sbagliato? Ditemi su che canale sono. Non so su che canale sono, perché ho caricato sul canale sbagliato. Scrivetemi su che canale sono, cortesemente. Scrivetemi su che canale sono, Befane, che forse ho scelto pure il canale sbagliato. Siete in grado di scrivere su che canale sono? Io vado su un canale... Ah, Tristebenes! Allora è quello giusto. Bene, bene. No, perché pensavo di essere su un altro canale, ho detto, Tristebenessere. E perché non lo vedo però qua? Siamo sicuri che Tristebenessere? Bene, molto bene. Però è molto strano che non lo vedo, vabbè. Comunque, comunque... Boh, stranamente. Comunque, vediamo, vediamo quindi qual è il modo per farlo innamorare utilizzando la psicologia oscura. Come fare innamorare la persona che ci interessa utilizzando la psicologia oscura. Allora, no, non capisco perché di solito lo vedevo nel qua e invece lo vedevo nel qui ad ora e invece adesso non lo vedo né un po'. Comunque sia, non è un problema, esatto, farlo innamorare con la psicologia oscura. Bene, allora, cerchiamo di capire un attimino quindi come impostare il tutto. Cerchiamo di capire un attimino che cos'è la psicologia oscura e come utilizzarla in modo etico, però come utilizzare la psicologia oscura in modo corretto per farlo innamorare, per conquistarlo, per sedurlo, perché questo è proprio poi il punto fondamentale. Noi possiamo utilizzare la psicologia oscura ma dobbiamo cercare di utilizzarla in modo etico, dobbiamo cercare di utilizzarla in modo corretto. Intanto la psicologia oscura è, diciamo, è una psicologia manipolativa, come dice il termine fondamentalmente, ma ha degli aspetti negativi, ha degli aspetti positivi. Ovviamente le tecniche di psicologia oscura negative sono quelle che vengono sviluppate, diciamo, da personaggi negativi, quali ad esempio i sociopatici, quali ad esempio i narcisisti, ma spesso i principi di psicologia oscura vengono utilizzati anche dai politici fondamentalmente, anche da persone manipolative in generale. Noi dobbiamo tenere presente che invece il termine più etico, diciamo, di psicologia oscura è quella che cerca di utilizzare la parte oscura della nostra mente, la parte nascosta, quindi è quella parte della psicologia che cerca di utilizzare l'inconscio e agire sull'inconscio delle persone, piuttosto che sulla parte logico-razionale. Agisce sull'inconscio, ma agisce su alcuni aspetti dell'inconscio. Sappiamo che l'inconscio, da un punto di vista freudiano, è formato da tutta una serie di cose. Da un punto di vista logico-razionale, l'inconscio invece è formato da altre cose, anche ad esempio dalla creatività, quindi come diceva e affermava anche fondamentalmente il grande, come affermava il grande Milton Erickson, il nostro inconscio ha anche un aspetto creativo e noi possiamo utilizzare, diciamo, il nostro inconscio, noi possiamo utilizzare il nostro inconscio per sviluppare anche la creatività, sviluppare anche l'innamoramento. Questo è un punto molto importante, questo è un punto fondamentale e quindi l'inconscio non è soltanto quella parte negativa. Ovviamente la psicologia oscura per certi versi si sovrappona, ad esempio, alla manipolazione, alla persuasione, quindi la persuasione consiste nel modificare l'atteggiamento o il comportamento delle persone attraverso, diciamo, la sfera logica, no? La sfera logica utilizza la persuasione, utilizza il cercare di convincere qualcuno, il cercare di coinvolgere qualcuno utilizzando proprio alcuni aspetti, alcuni aspetti logico-razionali, mentre invece ci sono altre parti, ci sono altre situazioni che non utilizzano la sfera logica, come ad esempio la manipolazione, ma utilizzano, la manipolazione può essere sia logico che analogico. Quindi esistono queste tre parti, ma esiste la seduzione che è formata dall'interagire solamente sulla parte emotiva, la seduzione unita alla persuasione, parte emotiva più parte logica, e poi abbiamo la manipolazione che utilizza prevalentemente la parte inconscia, a meno che non sia una manipolazione coercitiva che utilizza la parte logica. Questo è un po' il substrato, diciamo, della psicologia oscura, no? L'obiettivo della seduzione, vedete? Qualcuno dice vedo, non vedo, che cazzo vuol dire? Vedi, erose o non vedi? Quindi noi dobbiamo cercare, ad esempio, una delle tecniche negative che non devono mai essere usate di psicologia oscura è, diciamo, la tecnica legata al gaslighting, no? Questa tecnica è di manipolazione che non dovete usare, si cerca di mettere in discussione la percezione della realtà dell'altra persona. In questo modo riusciamo a diventare un riferimento per quella persona e possiamo iniziare a destabilizzarlo. Invece ci sono delle altre cose di psicologia oscura, oscura perché sono legata all'inconscio, che noi possiamo utilizzare, sono anche molto più efficaci perché la manipolazione poi alla fine ti può indurre, può indurre qualcuno magari a fare qualcosa, ma non sarà mai veramente sedotto, non sarà mai veramente sedotta, non sarà mai veramente innamorato. Invece è molto importante utilizzare il linguaggio del corpo. Il linguaggio non verbale. Il linguaggio non verbale è una di quelle parti oscure, nel senso che è oscure alla logica, ma che è molto utile per sedurre, per conquistare, per fare innamorare. Nel linguaggio del corpo ci sono dei segnali consci e inconsci che noi possiamo emettere, quindi che riguardano gli ambiti della gestualità, della mimica, della postura, del movimento, del paraverbale. Quindi il linguaggio del corpo influenza la percezione delle persone. Ad esempio, una cosa molto importante che dovete fare per cercare di capire come comportarvi con una persona è quello di, diciamo, utilizzare la paralinguistica. Nella paralinguistica ci sono due modalità comunicative che possono in modo oscuro, cioè subliminare e nascosto, mandare dei segnali a una persona. La paralinguistica tratta due manifestazioni, come dire, tratti sopra-sotto segmentali della voce, che sono il tono duro, quello che piace molto duro, quello che piace a Sissi, e il tono moscio, che è quello che emette, diciamo, pippi. Comunque, il tono duro e il tono moscio sono due suoni che in qualche modo possono, in modo oscuro, cioè subliminare e nascosto, coinvolgere, sedurre. Il tono duro andrà a coinvolgere tutte le persone, il tono duro andrà a coinvolgere tutte le persone che per qualche modo si sono agganciati da bambini nella sgridata, perché il tono duro che ha come archetipo tacchete riguarda proprio la parte, diciamo, riguarda proprio quella parte di comunicazione che rappresenta un po' la sgridata, no? Il tono è duro fondamentalmente, quindi usare un tono duro va a stimolare tutte le persone che in qualche modo hanno vissuto una parte, diciamo, tutte quelle persone che in qualche modo si sono agganciate sulla sgridata. E sembra strano, no? Uno dice, ma che è che si aggancia sulla sgridata? Ebbene sì, ci sono persone che si agganciano anche sulla sgridata. Tacchete, e quindi provate a usare un tono duro. Viceversa, ci sono i toni morbidi, ci sono i toni morbidi, quelli che parlano in questo modo, e io mi chiamo Massimo, tu come ti chiami? Ah sì, dai, possiamo vederci tante volte. Ah, bene, bene, vediamoci. Questo, oppure questo, io sono Massimo, tu come ti chiami? Questo è un altro tono morbido, ma in alcuni casi è meglio tono duro, in alcuni casi è meglio tono morbido. Ora, quindi tu cosa devi fare? Beh, devi provare a utilizzarlo sia duro che morbido, perché c'è quella che lo preferisce duro, c'è quella che lo preferisce morbido, ma tu devi provare a usarli entrambi, quindi impara a usare il tono duro, impara a usare il tono morbido, e vedi quando si aggancia l'altra persona. Ora, come faccio a capire in modo nascosto che una persona si aggancia, ad esempio, al tono duro, al tono morbido? Beh, ad esempio, è semplice, se sono in piedi, e sto parlando con quella persona, uso un tono più duro, parlando anche del tempo, dico, ecco, vedi, anche oggi piove, puttana Eva, anche oggi piove, e sto usando un tono duro. Se noto che dall'altra parte la persona si portende in avanti, si tocca le labbra, si accherezza i capelli, vuol dire che ama quello, e quindi il tono duro è quello che crea un flash seduttivo, diciamo, no? Ovviamente c'è qualcuno, perché non devi chiederlo da un punto di vista logico, non è che da un punto di vista logico devi chiedergli lo preferisci duro, lo preferisci morbido, perché, diciamo, da un punto di vista logico magari ti dà una risposta che non è detto che coincida con la risposta, con la cosa reale fondamentalmente, quindi è molto importante utilizzare i due toni, sia quello duro, sia quello morbido, utilizzati contemporaneamente, no? Quindi questo è un punto fondamentale, perché poi, quindi provi, no? Quindi hai capito per quella specifica persona che tono devi usare, quindi quando vuoi creare aggancio, usa quel tipo di tono, quando vuoi creare sgancio, perché talvolta è anche importante utilizzare lo sgancio, utilizza un tono diverso. Ma poi c'è un'altra componente molto importante del linguaggio non verbale che fa parte sempre della psicologia oscura, che è la gestualità. La gestualità, diciamo, che comprende tantissime cose, diciamo, le persone gesticolano per diversi motivi, mentre si parla, in tanti casi, quindi è importante rendersi conto che alcuni gesti possono dirci molte cose veramente. Quindi è importante, diciamo, oltre ai gesti, tenere presente anche la, come possiamo dire, la postura e la camminata, perché postura, camminata e gestualità ci indicano fondamentalmente lo stato emozionale di una persona. Quindi se noi vogliamo conoscere lo stato emotivo, lo stato emozionale di una persona, dobbiamo imparare a capire, ad esempio, come questa persona si muove, come questa persona gesticola, come questa persona agisce. Quindi cosa vuol dire questo? Significa che, ad esempio, una specifica postura, uno specifico movimento ci fa capire molte cose e quindi ci dà informazioni preziose su quella persona. Ad esempio, se notiamo una persona rigida, in una postura rigida, marziale, eccetera, eccetera, sarà sicuramente una persona bacchettante, sarà sicuramente una persona da prendere con le pinze, sarà sicuramente una persona da trovargli un antagonista maschile. Quindi questa tipologia di persone si agganciano molto quando hanno un antagonista maschile. Poi abbiamo invece persone che hanno una postura più morbida, più rilassata, sono talvolta un po' sovrappeso, diciamo così, e sono tutte le tipologie di persone che sono uomini, sono un po' l'uomo mammo, l'uomo un po' materno, l'uomo un po' protettivo. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Quindi questa tipologia di uomo diciamo ci dà ci dà diciamo dà delle informazioni anche molto importanti, no? Quindi già dal fatto della postura capisco come devo comportarmi. Nel primo caso dovrò comportarmi in modo deciso, nel primo caso dovrò comportarmi in modo forte, marcato, essere duro, deciso. Nel secondo caso dovrò, salutiamo anche Roxy, nel secondo caso dovrò comportarmi invece in modo un po' più morbido, protettivo, avvolgente perché questo lo coinvolgerà. Quindi ci sono queste diverse forme di comunicazione che in qualche modo servono, servono tantissimo per capire cosa fare, capire come comportarsi. Anche la stretta di mano ci può dare delle informazioni sul tipo di persona che abbiamo davanti. Ci sono persone ad esempio che stringono la mano come se fosse un'atenale in questo modo e le persone che stringono la mano a tenali in questo modo sono tipicamente persone egocentriche e quindi l'egocentrismo si manifesta proprio da questo punto di vista quindi noi possiamo cogliere ad esempio anche qua delle informazioni importanti sul tipo di persona che abbiamo davanti. Ecco queste sono tutte informazioni che voi potete utilizzare se volete diciamo utilizzare la psicologia oscura la psicologia nascosta per far innamorare un uomo. Ovviamente per quanto riguarda la postura e la prossemica la gestione degli spazi è molto importante perché noi possiamo anche sedurre e conquistare utilizzando proprio il movimento del corpo l'avvicinarsi allontanarsi da una persona l'avvicinarsi e allontanarsi da una persona sono tutte delle cose delle situazioni che ci possono dare veramente un input positivo ci possono dare veramente delle situazioni anche molto molto importanti quindi questo è un punto anche fondamentale imparare a capire la persona che abbiamo davanti ci può veramente aiutare da questo punto di vista ma noi attraverso la psicologia oscura possiamo anche riconoscere ad esempio attraverso non verbale se una persona mente oppure no ad esempio quando una persona parla e tende in qualche modo a coprirsi la bocca ad esempio a parlare gesticolando in questo modo più o meno nascondendo la bocca è molto probabile che questa persona stia mentendo quindi è veramente fondamentale imparare a usare le tecniche di psicologia oscura perché attraverso le strategie attraverso le tecniche di psicologia oscura noi possiamo scoprire veramente molto su una persona possiamo scoprire veramente molto su quello che una persona fa e su quello che può far veramente innamorare qualcuno quindi sono tecniche di psicologia oscura ma tutto sommato utilizzate in questo modo sono tecniche benevole perché altre tecniche di psicologia oscura invece sono malevole e riguardano proprio la manipolazione noi non dobbiamo mai manipolare nessuno noi non dobbiamo non dobbiamo mai manipolare nessuno perché se arriviamo a manipolare qualcuno poi questa manipolazione tenderà a ritorcersi contro poi ci sono tutta un'altra serie di strategie sempre definite psicologia oscura ma in realtà si chiama in questo modo perché diciamo agisce più sulla parte nascosta è tutta una serie di strategie che riguardano la PNL la programmazione neurolinguistica che tra l'altro io sto facendo un seminario sul canale Massimo Terramasco quindi poi chi volesse approfondire molto diciamo le strategie di PNL può abbonarsi ovviamente al canale Massimo Terramasco quindi la PNL ci permette di entrare più in sintonia con una persona ci permette ad esempio di capire dei dati importanti della persona quali sono le sue caratteristiche quali sono diciamo i suoi valori che tipo di fisiologia ha che tipo di credenza ha conoscere questi dati è veramente molto importante perché ci permette utilizzando ad esempio una tecnica fondamentale che è la tecnica degli ancoraggi emozionali ci permette di creare emozioni positive di eliminare le credenze negative di creare nuove credenze utili a questa persona ma utili anche al nostro rapporto salutiamo anche Giovanna con questa persona e poi ad esempio noi possiamo utilizzandolo su di noi eliminare comportamenti depotenzianti come ad esempio delle paure perché spesso abbiamo paura di conquistare qualcuno ma questa paura è dovuta proprio ai nostri limiti fondamentalmente i limiti che noi abbiamo di comunicazione le paure che noi abbiamo perché le limitazioni diciamo nascono proprio dalle paure invece se abbiamo sicurezza in noi stessi non è che dobbiamo fare molto noi praticamente riusciamo noi riusciamo a ottenere veramente dei grandi risultati da questo punto di vista e riusciamo riusciremo anche a far innamorare in modo molto veloce in modo molto rapido quindi noi dobbiamo utilizzare queste strategie che si manifestano che sono molto importanti ovviamente la psicologia oscura se ti senti impotente diciamo magari nella conquista se senti di avere difficoltà nella seduzione allora sono proprio le tecniche diciamo non verbali della psicologia oscura che permettono veramente di raggiungere dei grandi risultati permettono veramente di migliorare te stessa e sono anche strategie di difesa fondamentalmente perché tramite la psicologia oscura noi possiamo anche difenderci possiamo anche utilizzarla questa per sconfiggere la manipolazione che è molto importante sconfiggere la manipolazione e riscoprire quella che è la nostra forza interiore perché noi dobbiamo anche imparare a proteggerci proprio da chi utilizza tecniche di manipolazione mentale dobbiamo imparare a proteggerci da chi utilizza strategie di manipolazione mentale e quindi diciamo che la psicologia oscura ha anche una valenza positiva da questo punto di vista perché non soltanto ci dà degli strumenti per sedurre degli strumenti per coinvolgere ad esempio a livello non verbale ma ci permette anche di evitare di cadere nella trappola diciamo talvolta nefasta di persone che utilizzano la manipolazione noi non dobbiamo manipolare ma non dobbiamo neanche essere manipolati fondamentalmente no? quindi la psicologia oscura non ha solo dei tratti negativi anche dei tratti positivi noi dobbiamo usare i tratti positivi ma dobbiamo anche imparare a difenderci da chi utilizza questi tratti negativi che possono in qualche modo danneggiarci soprattutto dalle persone manipolative perché la manipolazione ad esempio è il processo attraverso la quale perdiamo il nostro potere decisionale è il nostro potere di conquista fondamentalmente invece noi dobbiamo essere sempre attivi da questo punto di vista dobbiamo evitare ad esempio riconoscere chi ci fa gaslighting perché gaslighting è una strategia di manipolazione oscura ma negativa e quindi abbiamo tutte le cose per venire fuori fate attenzione anche alle persone questo voi non dovete utilizzarlo che utilizzano l'isolamento sociale cioè cercano di tagliare i vostri rapporti con altre persone con i vostri parenti con i vostri amici con persone che frequentate per avere il completo controllo della situazione quindi noi dobbiamo imparare a usare anche la psicologia oscura ma soprattutto imparare a difenderci da situazioni negative nefaste che ci possono portare veramente dalle situazioni di crisi ad esempio quando interagisci con una persona nuova è molto importante costruire è molto importante costruire delle proprie barriere diciamo creare dei confini sani perché avere dei confini solidi aiuta a proteggerci da coloro che potrebbero cercare di manipolarci consentendo di diciamo farci fare delle cose che non facciamo quindi sono tutte situazioni interessanti tenendo presente che la parte negativa della psicologia oscura è quella legata al marchiavellismo è quella legata all'egocentrismo è quella legata a tutte queste situazioni che invece noi dobbiamo superare perché per avere una seduzione più profonda possiamo usare le tecniche che ho detto ma soprattutto diciamo dimostrare un forte interesse per se stessi questo è il modo migliore per vivere al meglio anche un po' le strategie di psicologia oscura evitando di cadere ad esempio in trappole come quella del marchiavellismo e queste sono un po' le cose che bisognerebbe imparare a fare ovviamente è importante riconoscere la manipolazione che delle persone possono mettere in atto anche perché poi se vogliamo mettere in atto noi dobbiamo capire che cos'è la manipolazione la manipolazione è un discorso complesso dobbiamo riconoscere le sue forme diverse il denominatore comune diciamo delle forme di manipolazione è alterare la percezione del mondo affinché questa persona abbia una percezione del mondo simile alla nostra e poi le persone che vogliono mettersi one up cioè in posizione di superiorità nei nostri confronti dobbiamo per prima cosa mandarle a fare in culo un seduto astante quindi questo è uno dei segnali più evidenti di manipolazione quando interagisci con persone che si mettono nella posizione one up cioè superiore io sono meglio di te tu non capisci niente tu qui tu lì e quindi imparare invece a riconoscere queste strategie di manipolazione è fondamentale per non caderci e quindi imparare poi noi stessi a comunicare ma a livello non verbale per riconoscere ad esempio se una persona si aggancia se non si aggancia quanto si aggancia quindi tutta una serie di strategie che possono essere veramente utili per far innamorare per coinvolgere per diciamo ottenere dei risultati bene mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video seguitemi